Tragedia la stazione di Cattolica 27enne muore investito da un treno. A Pesaro si tiene dei ristoratori in comune per incontrare l'amministrazione. Vandalismi e danni alle auto alla celletta la parola ai residenti. La fortuna bacia ancora Pesaro venduto in centro il premio da 5 milioni. Buona serata, benvenuti al nostro telegiornale. Oggi è giovedì 7 gennaio. In questa edizione apriamo con la cronaca perché si è verificato questa notte l'investimento di un giovane di 27 anni, residente a Gabic, che è stato travolto da un treno in corsa all'altezza della stazione ferroviaria di Cattolica. Sul posto è prontamente intervenuta la polizia ferroviaria, accompagnata dai sanitari del 118, che però non hanno potuto fare nulla per salvare la giovane vita della vittima. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Pare che il gesto compiuto dalla vittima sia stato intenzionale e che pochi istanti prima di togliersi la vita gettandosi sui binari il ragazzo avrebbe avvisato qualche conoscente di quanto stava per compiere. Inutile anche il tentativo del conducente del treno che ha tentato di compiere all'ultimo una frenata di emergenza. Ed ora ci spostiamo a Pesaro perché è stato organizzato questa mattina un sit-in all'interno della Sala del Consiglio Comunale. Protagonista la categoria dei ristoratori che ha richiesto un incontro con l'amministrazione per fare il punto sulle difficoltà sempre crescenti generate dal Covid. Era composta da circa 50 persone la delegazione dei lavoratori del settore della ristorazione accompagnati dal segretario Confcommercio Davide Ipaso e dal presidente dell'Associazione Albergatori Fabrizio Liva che questa mattina si è recata nella Sala Consigliare del Comune di Pesaro per chiedere un incontro con il sindaco Matteo Ricci volto ad illustrare le difficoltà economiche sempre crescenti causate dalla crisi pandemica. L'invito rivolto all'amministrazione è stato quello di trasmettere la voce dei lavoratori locali a livello regionale e nazionale per chiedere adeguati aiuti e ristori. Ci hanno ricevuto, purtroppo non c'era il sindaco a rispondere alle nostre domande tenendo in considerazione comunque che non lo abbiamo avvertito perché volevamo fare tra virgolette una manifestazione di sensibilizzazione. Abbiamo attivato spendendo migliaia di euro per attivare i protocolli Covid per evitare che ci venissero, ci fossero possibilità di creare positività all'interno del locale. Poi dalla sera alla mattina ci hanno dichiarato praticamente un tori e ci hanno chiuso. Il Natale non è andato perché ci hanno chiuso e in questo momento le attività sono con l'acqua alla gola. Molti dei ristoratori ci stanno dicendo che non ce la faranno e allora siamo venuti qui per far capire che vogliamo e che venga garantito l'articolo della Costituzione nel quale c'è il diritto al lavoro. È stato un Capodanno e un Natale duro ma non credo che ci si possa limitare il Capodanno e al Natale. Bisogna rapportarsi a tutto quello che è stato il lavoro di questi ultimi mesi. Gli alberghi annuali oramai sono chiusi da qualche mese. Noi non abbiamo un codice a teco che non ci permette di lavorare ma non lavoriamo perché non c'è gente. Non ci sono eventi, non ci sono congressi e non c'è più il turismo del business. In questo decreto del ristoro di Natale noi siamo stati esclusi. Questo è un grave errore che ha fatto lo Stato. L'estensione praticamente di questo stato di situazione ieri è stato spostato al 31 di luglio quindi si verificherà ancora una volta se si riuscirà a partire per la stagione estiva che le prenotazioni arriveranno sempre all'ultimo minuto e succederà anche che quindi non possiamo contare nemmeno sulle capare delle prenotazioni. I punti essenziali che abbiamo chiesto questa mattina sono prima di tutto che il sindaco faccia sentire la nostra sofferenza in una situazione di apertura e di intermittenza senza sapere né conoscere le date in cui saremmo aperti o chiusi. Poi il secondo punto fondamentale è quello di rimodulare in qualche modo le varie utenze che sono di competenza del comune e in cui il comune possa intervenire in alcune decisioni tipo acqua, tari e tariffe nel genere che vengono rimodulate in base a quelle che possono essere le esigenze. semmai anche in maniera temporanea non si chiede di cambiarle del tutto per sempre ma rivedere e venirci incontro in un momento così difficile in cui si pensava che il 2020 fosse finito tutto invece il 2021 rinistra come il 2020. Presente all'incontro anche l'assessore con delega alle attività economiche Francesca Frenquellucci che ha illustrato ai lavoratori presenti le misure messe in campo dall'amministrazione comunale dall'inizio dell'emergenza anticipando poi la volontà di rinnovare anche per il 2021 l'assegnazione di spazi pubblici gratuiti destinati all'attività. Il comune ha delle competenze e fin dove è potuto ha fatto tutto quello che era possibile e adesso ci attiveremo anche per pensare a un futuro. Speriamo che insomma con il vaccino finisca il più presto questa situazione è un anno che stiamo vivendo la pandemia e poi gli faccio a tutti i migliori auguri e gli ringrazio innanzitutto per l'educazione che hanno avuto e la pazienza e hanno capito tutto quello che il comune di Pesaro ha cercato di fare. Ora è importante spingere tutti insieme, chiedere dei ristori alla regione che siano direzionali verso la loro categoria che è in difficoltà e la stessa cosa noi continueremo a farla con il governo. A riguardo agli spazi ti do la notizia in anteprima oggi, ne avevamo già parlato in giunta e siamo ben disposti a dare questa possibilità perché abbiamo visto che funziona non solo il discorso della pandemia ma proprio siccome la città di Pesaro si vuole puntare adesso in questa parentesi di questo anno è stato particolare però si vuole puntare al turismo e vedendo che dando questa possibilità di allargare gli spazi ha funzionato anche perché si è visto che le persone comunque c'erano e sono rimasti insomma contenti. Durante il periodo delle festività natalizie di fine anno e anche dell'epifania è proseguita anche l'attività di controllo sull'osservazione delle misure di contenimento anti-covid-19 da parte delle forze di polizia. In tutto sono state controllate 4.565 persone e sono state contestate 86 violazioni. Nello stesso periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio sono stati controllati 1.632 esercizi commerciali con contestazione di 7 illeciti ai relativi titolari. Proprio oggi la prefettura ha adottato le prime 100 ordinanze di pagamento nei confronti dei trasgressori a cui faranno seguito gli ulteriori provvedimenti in via di perfezionamento. Ed ora apriamo la consueta pagina dedicata agli aggiornamenti riguardanti i nuovi casi registrati di coronavirus sul territorio regionale e provinciale. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.009 tamponi, 2.188 nel percorso nuove diagnosi e 821 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari al 15,8%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 346 di cui 24 registrati in provincia di Pesarurbino. Ancora alto anche il numero dei decessi con il dato comunicato ieri sera di 14 nuove vittime a livello regionale, 8 di queste risiedevano nella provincia pesarese. Ed ora ci spostiamo nel quartiere della Celletta di Pesaro dove i residenti si stanno organizzando con una raccolta di firme per richiedere l'installazione di alcune videocamere di sorveglianza proprio in questa zona, in modo particolare dopo i recenti episodi di vandalismo che hanno coinvolto anche le automobili di alcuni cittadini. Macchine danneggiate e atti di vandalismo che arrivano ad associarsi al furto. Parte da queste basi la volontà dei cittadini del quartiere Celletta-Pentagono di dare vita ad una raccolta firme per chiedere l'installazione di alcune telecamere di videosorveglianza. Nella notte del 5 gennaio sono stati distrutti i finestrini di due vetture situate nel parcheggio di via Tomasini. Gli stessi malviventi autori del gesto si sono poi impossessati di tutto ciò che sono riusciti a trovare nell'abitacolo delle auto, compresi oggetti di poco valore. Un fatto grave che preoccupa i residenti, i quali già da diverso tempo hanno segnalato il verificarsi di episodi spiacevoli nella zona. Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio ci sono stati atti vandalici a danno delle auto che erano qui parcheggiate in particolare due auto a cui sono stati rotti i finestrini una delle auto è la mia e hanno messo sotto sopra tutto l'abitacolo aprendo i cassettini e di tutto ed è stata una brutta sorpresa perché non ce lo aspettavamo nessuno di noi qui del quartiere perché solitamente la zona almeno il parcheggio era sempre stato tranquillo e quindi non c'erano mai stati problemi in questa zona qualche problema in passato e anche adesso c'è che riguarda il parco Baden Powell purtroppo dove lì invece ci sono spesso atti vandalici sia sui giochi che devono essere continuamente risistemati e soprattutto in estate con gli schiamazzi notturni fino a tarda notte fino alle 4 e le 5 della mattina e queste segnalazioni noi le abbiamo fatte più volte chiediamo al comune l'installazione di due telecamere una qui nel parcheggio e l'altra nel parco per una sicurezza e una tranquillità di tutti i residenti della zona. Il quartiere è un quartiere abbastanza tranquillo è uno di quei quartieri che è vivibile e lo è sempre stato e sarebbe il caso che restasse tale proprio per permettere ai bambini di accedere al parco tranquillamente anche d'estate ma anche per un decoro perché anche la stessa pulizia poi ne risente è capitato un paio di volte di dover raccogliere cose lasciate in giro da chi del parco ne fa un uso improprio e il parco non è solo questo la sicurezza del quartiere e la sicurezza di Pesaro passa anche attraverso queste piccole cose e abbiamo dei contatti con i consiglieri di quartiere e in comune affronteranno questa cosa questo argomento sarà discusso martedì proprio per dare un'informazione e poi vediamo le evoluzioni ci piacerebbe vedere delle evoluzioni positive a queste piccole segnalazioni che diamo ma che piccole poi non diventano e non restano se hanno un crescendo di atti Ed ora cambiamo completamente argomento perché c'è una bella notizia da comunicare di cui abbiamo parlato anche questa mattina nella nostra rassegna stampa la vincita a Pesaro di 5 milioni di euro una vincita che è avvenuta proprio alla tabaccheria Cardinali di Piazza Lazzarini in cui è stato venduto il biglietto associato al primo premio della Lotteria Italia tanta quindi l'emozione, l'entusiasmo dei titolari ma anche dei dipendenti del punto vendita come vediamo in questo prossimo servizio realizzato da Daniele Romagna La fortuna bacia ancora Pesaro dopo la vincita di un milione registrata nei giorni scorsi alla tabaccheria 2000 di Soria ieri sera durante l'estrazione della Lotteria Italia è arrivato l'annuncio che il biglietto associato al primo premio di 5 milioni di euro è stato venduto in città La vittoria di Pesaro porta le Marche ad essere la prima regione classificata nel 2020 al concorso nazionale dopo i grandi colpi registrati negli anni passati a Numana e a Senigallia Tanta l'emozione questa mattina nei locali della tabaccheria Cardinali la rivendita situata in Piazza Lazzarini presso cui è stato staccato il tagliando vincente di serie E 40-90-84 L'emozione è stata grossissima, questa notte non si è dormito quando abbiamo visto che il primo premio era stato venduto a Pesaro e avevamo il presentimento che potesse essere uno dei nostri perché insomma il numero era vicino ad altri numeri in nostro possesso ma non abbiamo avuto la certezza fino a questa mattina stamattina l'abbiamo avuta la matrice del biglietto vincente qua da noi il biglietto da 5 milioni, il primo premio, una botta grossa siamo contenti, siamo contenti per il vincitore, siamo contenti per tutta la dinamica della cosa ci puntiamo sulle lotterie, ci puntiamo su tutto il nostro lavoro quindi ci fa piacere che qualcuno vinca Difficile risalire all'identità del fortunato vincitore affermano titolari e dipendenti del punto vendita visto anche l'elevato numero di biglietti venduti la stessa tabaccheria è stata protagonista in passato di altri colpi importanti riscossi anche su altri giochi una vittoria come quella di ieri sera però non si era mai vista è la prima vincita di questo calibro da 5 milioni ma grosse vincite c'erano già state da 500 mila, 50 mila e tanti altri premi da 1000 euro vari insomma però 5 milioni sono 5 milioni, non è usuale Con la fine delle festività termina anche l'iniziativa del quartiere 9 chiamata il presepe diffuso con le sagome rappresentative della natività che sono state poste alla scuola elementare di Santa Maria delle Fabrecce alla scuola Cantarini e al parco La Forestina sempre a Tombaccia un progetto che comprende anche l'albero installato in Piazza Europa e a cui hanno partecipato anche il centro operativo del comune di Pesaro Lega Ambiente e l'ente Parco San Bartolo L'assessore all'operatività del comune di Pesaro Enzo Belloni ha ricevuto un risarcimento di 2.900 euro a seguito di alcuni insulti ricevuti su Facebook da parte di un utente L'assessore ha deciso di devolvere l'intera somma di questo risarcimento ottenuto appunto per acquistare un gioco inclusivo da installare nell'area giochi di Via Gattoni È prevista per sabato 9 gennaio alle ore 11.30 presso il parcheggio degli impianti sportivi a Cerasa di San Costanzo l'inaugurazione della casetta dell'acqua il rispetto delle normative vigenti in materia del contenimento del contagio da Covid-19 non è prevista una partecipazione pubblica ma sarà possibile seguire l'evento in diretta su Facebook dalla pagina del sindaco Filippo Sorcinelli Sono partiti da qualche giorno i vaccini, le vaccinazioni per il comparto sanitario ospedaliero della regione Marche ma i pesaresi cosa pensano del vaccino anti-Covid? Abbiamo quindi raccolto qualche opinione a riguardo per capire come i cittadini si comporteranno nel momento in cui sarà possibile effettuare la vaccinazione per tutti Favorevoli, incerti o contrari Per i pesaresi il tema della vaccinazione anti-Covid partita da qualche giorno per il comparto sanitario ospedaliero non trova un riscontro unanime Alcune tra le persone interrogate sarebbero disponibili a ricevere il vaccino in tempi rapidi a contrario di altre il cui pensiero non risulta essere lo stesso Io sono favorevole, molto favorevole perché altrimenti non ne veniamo fuori Sì sì anch'io assolutamente quanto sarà il mio momento lo farò e con me tutta la mia famiglia assolutamente non vediamo l'ora per uscire definitivamente insomma non se ne può più no? Assolutamente sì tutta la famiglia anche perché abbiamo avuto un caso grave in famiglia fortunatamente ne è uscito fuori ma assolutamente sì Sono assolutamente favorevole, lo farei, assolutamente sì, subito Ma il mio, sinceramente il mio parere personale al momento è abbastanza titubante nel senso non sono totalmente favorevole anzi direi proprio che non sono favorevole alla vaccinazione Secondo me ci vorrebbe un'informazione un po' più a 360 gradi vengono comunque sempre fatte parlare le solite voci e quindi mi sembra una cosa sempre molto abbastanza di parte io cerco di informarmi anche attraverso altri canali che esulano un po' dall'informazione pubblica e questo provoca un po' di contrarietà da parte mia Io sono favorevole, tant'è che lo farò a breve perché lavoro in un RSA e lo farò Diverse le voci anche di chi, a prescindere dalla favorevolezza o contrarietà al vaccino preferirebbe prendersi più tempo per ragionare sulla scelta da intraprendere Al momento aspetto, voglio vedere un attimino un pochino i risultati perché comunque ancora non è che sono un pochino diffidente però sicuramente lo farei Dipende anche, insomma, cosa comporta se anche le allergie, queste cose così c'è capito un attimino un pochino è tutto da vedere però non sono contraria È un campo minato quello delle vaccinazioni quindi diciamo che ancora non ho chiaro proprio alcune informazioni per cui mi voglio documentare meglio per poi decidere cosa sarà Allora, guarda, io ancora al momento sono incerta quindi mi informerò sicuramente meglio poi vedrò di prendere la mia decisione In effetti c'è molta confusione sul fatto quindi questo è quello che penso anch'io non c'è una cosa chiara anche perché da quello che sento ci sono anche persone totalmente contrarie anche nell'ambito infermieristico che non si sentono di fare questo vaccino però ecco, è una cosa un po' ognuno, come si dice veramente, ognuno ha la sua propria opinione Si è svolta questa mattina presso il Castello di Frontone la prima giornata di lavori dell'Osservatorio Regionale per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale un organismo permanente fortemente voluto dall'Assessorato all'Agricoltura Regionale per creare un'occasione di ascolto e condivisione di idee sulle dinamiche dello sviluppo delle aree rurali l'intervista che vedrete tra poco è all'Assessore con delega all'Agricoltura e Vice Presidente della Regione Marche, Mirko Carloni Nei mesi scorsi abbiamo raccolto da parte di molti imprenditori da molte associazioni diverse criticità sul PSR precedente sulle modalità di pagamento, su alcuni gravami burocratici e ci eravamo ripromessi, abbiamo preso questo impegno di semplificare e di creare un po' di innovazione sul percorso dello sviluppo rurale lo scopo di questa riunione con tutti gli stakeholder dell'economia agricola compresi anche il Ministero e anche i soggetti intermedi i tecnici, gli agronomi, gli agrotecnici, le associazioni di categoria ma anche gli imprenditori più significativi oggi entriamo nel vivo di quali scelte fare per il futuro come impostare dei modelli organizzativi per il PSR innovativi, semplificati che possono rendere più facile e più conveniente fare l'agricoltura nelle marche siamo la regione col maggior biologico d'Europa abbiamo una grande opportunità di biodiversità però dobbiamo ancora far crescere le nostre filiere e fare in modo che le imprese agricole ripartano con slancio abbiamo di fronte un contributo pubblico europeo molto importante e su quello vorremmo fare delle scelte innovative ascoltando chi ha le competenze e chi ha delle idee da darci le misure più importanti che noi vorremmo mettere in piedi sono senz'altro ripartire dalla misura per i giovani agricoltori una misura per gli investimenti strutturali e sul biologico che sarà oggetto della discussione della prima parte l'N più 3 sarebbe i contributi che noi possiamo spendere entro quest'anno e su questo vorremmo raccogliere dei contributi anche per rendere più innovativi questi bandi e più semplificati per il successivo partenariato invece ripartiamo da zero ed è tutta una storia da ricostruire ma per farla cercando un po' di innovazione un po' di semplificazione abbiamo bisogno del contributo di tutti i soggetti che ci possono davvero aiutare certamente il nostro obiettivo politico come giunta è quello di rilanciare il mondo agricolo e il settore primario della nostra economia e vi ricordiamo che l'intero speciale televisivo dedicato appunto a questo evento che si è tenuto questa mattina a Frontone andrà in onda su Rossini TV martedì della prossima settimana alle ore 21.15 e adesso chiudiamo la nostra edizione del telegiornale parlando di sport perché ci arriva una notizia dal calcio pesarese la Vis Pesaro e il direttore sportivo Claudio Crespini hanno deciso di risolvere consensualmente il contratto che li legava la società ringrazia Crespini per il lavoro svolto in bianco rosso in tre anni con professionalità e dedizione e gli fa un grosso in bocca al lupo per il futuro Altra novità in casa a Vis dalla pistoiese dell'attaccante Nicola Gucci classe 90 nato a Bagno a Ripoli in Toscana che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 chiaramente sempre con la Vis Pesaro Bene, adesso invece andiamo subito a dirvi quella che sarà la prima serata di questa sera su Rossini TV questa sera ci divertiamo con questo L'Ultim Baganel due atti in vernacolo pesarese di Massimo Cimini e Stefano Gennari non perdetevi questa divertente commedia alle ore 21.15 e poi vi ricordo anche la rassegna stampa vi accompagniamo tutte le mattine dal lunedì al sabato alle 7.20 in diretta qui ci sono anche le repliche che vedrete poi ogni giorno e come ben sapete la rassegna stampa è la lettura dei titoli dei quotidiani locali tutte le mattine in diretta e in diretta anche Facebook e allora ho detto veramente tutto vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione vi ricordo il numero per segnalare le cose che non funzionano che non vanno nel nostro territorio 370-366-7210 noi ci ritroviamo domani con la rassegna stampa e con voi ci sarà Daniele Romagna grazie e buona serata a tutti voi grazie a tutti